primo vero bagno di folla di una fiera italiana per la Giulia e qui ad Automoto d'epoca chiaramente il passato si mescola perfettamente al futuro ma chiediamo direttamente ai visitatori della fiera cosa pensano della nuova Giulia è la rinascita dell'Alfa Romeo Marchionne vuole portare il marchio ai fastidi una volta e questo è l'esempio lampante una macchina per piloti e puristi appassionati dell'automobile sicuramente c'è un richiamo al passato però la vista al futuro si vede la proiezione verso il futuro è un buon passo sta facendo veramente una bella macchina penso sono la mia prossima auto è letta in chiave moderna però lo spirito che c'è dentro ricalca quello delle dell'Alfa Romeo di un tempo credo splendida direi linea le proporzioni la coda l'anteriore il fianco vedo un prodotto molto valido l'inca da invidiare agli altri chi sono gli altri? gli altri potrebbero essere la BMW ti piace Giulia? sì sì, mi piace è molto bello ma preferisco l'alto riesce secondo me a posizionarsi bene sul mercato con le sue concorrenti tipo BMW e Mercedes speriamo che decolli bene e che mantenga comunque il buon nome dell'Alfa Romeo sul mercato devi scegliere un colore? questo ok facile come Alfista una macchina del genere era giusto che arrivasse in casa Alfa di San Antonio Ressun bravo buona